Ha fatto tappa anche nella parrocchia di Lentiai, in comune di Borgo Valbelluna, dopo essere stata anche in altre parrocchie del Triveneto e a Roma, la reliquia ex ossibus di Don Luigi Caburlotto, parroco educatore e fondatore delle suore figlie di San Giuseppe. Con un lungo corteo, partito dalla scuola dell'infanzia Nazareth, una sessantina di bambini accompagnati dalle loro famiglie e dagli insegnanti, nonché i parrocchiani di Lentiai, hanno preso parte, sabato 6 aprile, alla celebrazione dedicata proprio a Don Luigi Caburlotto, proposta alla comunità lentiaiese, dove da tempo risiedono le suore figlie di San Giuseppe, in preparazione alla ricorrenza del compimento dei 170 anni di fondazione della congregazione e dei 5 anni dalla beatificazione di Don Luigi Caburlotto, dichiarato beato il 16 maggio 2015. A presiedere la Santa Messa, in questa particolare circostanza, è stato il Vescovo Emerito della Diocesi di Belluno Feltre, Monsignor Giuseppe Andric, particolarmente legato anche per propria esperienza personale alla figura del Caburlotto e coadiuvato dall'arciprete di Lentiai, Don Luca Martorell. Una celebrazione assai partecipata, animata oltre dai canti del coro parrocchiale e dei bambini, anche dalla presenza della filarmonica di Lentiai, in cui si sono ricordati gli insegnamenti, la spiritualità ed il carisma educativo del beato Don Luigi Caburlotto. È un momento per coinvolgere tutto il popolo di Dio per la preghiera vicino alla reliquia del nostro fondatore, del nostro beato, il quale sempre si è preso a cuore i ragazzi, i bambini, in particolare le famiglie. Diceva infatti se salverete una giovane donna salverete un'intera famiglia. Questa reliquia viene da Venezia, dalla casa madre e sta girando tutte le parrocchie dove noi ci siamo o ci siamo state in passato perché questa figura ha inciso nella nostra vita e noi sicuramente abbiamo trasmesso alle famiglie che abbiamo avvicinato il suo stile educativo e la sua spiritualità, il suo modo di vivere il quotidiano. La congregazione, presente a Lentiai da molti anni ormai, da Venezia dove venne fondata nel 1850, si è diffusa in Italia, Brasile, Filippine e Kenya.